Musica Pronti, via, depositate le liste a Trapani e Derice per le prossime elezioni amministrative. Saranno oltre 600 i candidati per uno scranno consigliare. Chiesto l'obbligo di soggiorno per da lì il senatore forzista, per i magistrati della DDA di Palermo è socialmente pericoloso. Da qui pertanto la proposta che intanto ha già avuto le prime ripercussioni sulla campagna elettorale. Il parlamentare ha fatto sapere per il momento che ha sospeso ogni attività elettorale per la sua corsa a sindaco di Trapani. Nacci presenta i suoi assessori, conferenza stampa questa mattina del candidato sindaco di Erice Luigi Nacci per presentare i suoi primi nomi degli assessori, quelli designati. I paletti del comune di San Vito, in vista dell'imminente stagione estiva, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Rizzo pone dei limiti ben precisi. E per lo sport vincere ci siamo. Questa sera alle 20.30 il Trapani sarà di scena a Riga Monti di Brescia per l'ultima e decisiva partita di questo campionato. Eccoci ancora in diretta e ben trovati con la nostra seconda edizione del Tg. Depositate le liste di Trapani e Erice, saranno oltre 600 i candidati per uno scranno consigliare. A Trapani 14 liste ed oltre 330 candidati. A Erice in proporzione ancora di più, ben 19 liste con più di 300 candidati. Un esercito che come sempre raccoglie tutto il suo contrario. Soldati scelti e arruolati di leva, ovvero per fare numero. Ad ogni modo alcuni più di altri sono attesi al vaglio dei cittadini. Gli uscenti, che come sempre, forse questa volta più di altri, sono quelli più a rischio. Soprattutto per quelli che non hanno votato la sfiducia al sindaco Damiano. Un attaccamento alla poltrona degna di miglior causa per tenere sotto la tenda ad ossigeno un primo cittadino fra i meno amati di sempre. Purtroppo però hanno tenuto sotto la tenda anche la città. E gli elettori probabilmente se ne ricorderanno. Sul banco degli imputati si troveranno soprattutto il gruppo di Forza Italia con in testa il più votato alle scorse amministrative, Peppe Guaiana. Vedremo se il consigliere Azzurro non pagherà Dazio e riuscirà a bissare il risultato di cinque anni fa. Un banco di prova importante in vista delle regionali quando vorrà proporsi all'elettorato provinciale. Trapani sarà la sua roccaforte visto che difficilmente fuori dall'agroericino farà risultato scontrandosi con candidati ben più radicati di lui. Nella stessa situazione degli azzurri gli ex articolo 4 oggi confluiti in cittadini per Trapani. Una lista attrezzata per fare risultato che fa riferimento all'onorevole Paolo Rugirello. Ma comunque Forza Italia sembra essere la lista più attrezzata assieme al PD. Tanti big e qualche illustre ritorno come quello dell'ex presidente del consiglio Stefano Nola. Sempre con Dalì ci sarà la lista del PSI che pare anch'essa molto competitiva. E poi quella della grande città capeggiata probabilmente dal più atteso di tutti. Super Mario. L'ex sindaco Buscaino dopo il volta faccia al suo amico di sempre Piero Savona è atteso da amici, nemici e opinionisti alla prova del voto. Un suo eventuale risultato, non all'altezza delle aspettative, quantificato in un minimo sindacale di 400 voti, sarà deriso dai suoi detrattori. E lui lo sa. Nel PD i pronostici vanno tutti in favore degli ex candidati alle primarie Safina e da Bruscato, quest'ultimo da sempre record man di preferenze nel partito. Il dirigente regionale invece gode dell'appoggio degli ex di esse in blocco. Dietro di loro si pronostica un'ampia rosa di donne agguerrite. Daniela Di Girolamo, sponsorizzata dalla CISL, l'imprenditrice Rosetta Castiglione e i quadri di partito Mariangela Miceli e Silvia Gugliaro, figlia dell'ex sindaco Vincenzo. Molto probabile che fra loro esca una delle sorprese del prossimo voto. Al primo vero banco di prova invece il segretario cittadino Francesco Brillante. È stato in questi mesi molto duro con i suoi avversari. Gode dei favori di pezzi di partito e anche lui sotto una certa soglia di preferenze sarà attaccato politicamente, dovendo ridimensionare, e di molto, il suo ruolo nei dem. La terza di Savona, trapani svegliati, sembra discreta. Fra i suoi candidati spicca il presidente del consiglio di ieri, Cennini Romano. Vedremo se la sua scelta di scendere a valle lo primerà. Nelle eseliste di Fazio non sembrano esserci molti big delle preferenze, tutti abbastanza equilibrate, ad eccezione dei consiglieri uscenti con in testa Francesco Salone. Anche per lui vale il discorso di Guayana. Sarà l'ennesimo banco di prova per le regionali, obiettivo mai nascosto dal giovane consigliere che già cinque anni fa tentò il grande salto dopo essere risultato il secondo degli eletti in città. Ma il risultato fu deludente appena duemila preferenze. Che sono il nulla per quella competizione. Ma Salone è deciso più che mai ad essere di nuovo della partita. Nei 5 Stelle si sa, i nomi contano relativamente. Tutto dipende da come la città valuterà le scelte dei candidati sindaco. Fino ad oggi Maltese ha tenuto un profilo molto basso. Per molti autorevoli commentatori la soglia minima è il 20%. Sotto quello lo sconfitto avrà un solo nome e cognome, Maurizio Sant'Angelo. Il senatore è il vero deox macchina delle scelte del movimento e a molti attivisti non avere svolto le comunarie ha fatto storcere il naso stigmatizzando le sue scelte pubblicamente. Sopra quella soglia avrà la sua vittoria. Per il movimento città misura duomo invece sarà tutto grasso che cola, pochi e volenterosi. E a Erice invece? Lì è ancora più dura la battaglia elettorale fra i sei candidati sindaci. I colpi bassi da mesi non si contano, ma ne parleremo un altro giorno. E adesso una notizia di questa mattina che riguarda il senatore Antonio Dalì, candidato a sindaco di Trapani per le prossime elezioni amministrative. La DIA di Palermo ha chiesto il soggiorno obbligato a Trapani per il parlamentare forzista, un provvedimento che potrebbe avere ripercussioni sulla campagna elettorale. Per i giudici è socialmente pericoloso. Da qui pertanto la richiesta avanzata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, soggiorno obbligato a Trapani per il senatore Antonio Dalì, candidato a sindaco del capoluogo. Il provvedimento notificato ieri poco dopo la presentazione delle liste ai difensori Gino Bosco, Stefano Pellegrino e Arianna Arrallo, sarà discusso il prossimo mese di luglio davanti al Tribunale. Questa mattina la notizia è stata confermata dall'Avvocato Bosco. Dalì, a quanto pare, è volato a Roma per un confronto con il commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Miciche e con i vertici del partito. Candidatura a rischio sta di fatto che sono stati annullati gli incontri in programma per oggi nel comitato elettorale di Viale Regina Margherita con gli studenti universitari e con gli agenti immobiliari. Lo scorso mese di settembre il senatore era stato assolto in appello dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per i fatti che gli erano stati contestati commessi dopo il 1994. Per gli anni precedenti, invece, è scattata la prescrizione. Adesso una nuova tegola che infiamma la competizione elettorale quando mancano 25 giorni al voto. E non è tardata ad arrivare la reazione di Dalì alla richiesta avanzata dalla DIA di Palermo contenuta in una nota diramata nella tarda mattinata di oggi in cui il parlamentare ha annunciato che ha sospeso per il momento ogni attività di campagna elettorale. Il senatore parla di persecuzione giudiziaria. Due volte assolto, ha ricordato Dalì nella sua nota, è nuovamente aggredito. Ieri, dopo appena un'ora dalla chiusura della presentazione della mia candidatura e delle liste per elezioni al sindaco di Trapani, con tempistica cadenzata in maniera da precludere ogni alternativa, ha aggiunto il parlamentare forzista, ho ricevuto una assolutamente imprevedibile ed ingiusta proposta di misura di prevenzione per obbligo di soggiorno nel comune di residenza da discutere nel prossimo mese di luglio. Per il candidato sindaco il messaggio è inequivocabile. Qualcuno vuole e può far sì che io non possa impegnarmi come sindaco nel fare diventare Trapani la città civile e all'avanguardia per la quale ho sempre disperatamente lottato. Un riferimento chiaro a certa parte della magistratura inquirente si sgorge con ogni evidenza nelle parole amareggiate del parlamentare azzurro. Quella Trapani del futuro, già entrata nei sogni dei trapanesi appena pochi giorni dopo l'inizio della mia campagna elettorale, continua Dalì nel comunicato. Nel frattempo ha già sospeso ogni attività di campagna elettorale in attesa dei colloqui di queste ore con i vertici del partito nella capitale. Torno amareggiato a Roma, fatto sapere per onorare come di consueto il mandato parlamentare, poiché ritengo che, pur essendo stato assolto da ogni accusa anche in appello, non potrei condurre le opportune iniziative con questo carico di infamia scaricatomi addosso. All'accusa di essere socialmente pericoloso, Dalì risponde Per mia sventura io sono solamente politicamente da abbattere. Lascio ogni valutazione alla capacità di giudizio e di reazione dei trapanesi. Affido il prestigioso bagaglio di idee e di entusiasmo nelle mani del mio partito e di tutti i candidati del mio saldo schieramento. E nel cuore delle donne, degli uomini e dei giovani che si sono già con me ufficialmente dichiarati. Persone tutte di grandi e indiscutibili qualità morali ed intellettive che meritano di poter godere del consenso elettorale dei cittadini trapanesi. Insomma, si attende una risposta dalla città e il senatore per la giustizia ad oloruggeria. Una reazione della città vemente e di ignazione potrebbe però farlo ritornare sui suoi passi, trapela dall'entourage del parlamentare azzurro. Comunque dal comitato del senatore Antonio Dalì tengono a ribadire che la candidatura a sindaco di Trapani non è stata ritirata. E a stretto giro di posta è arrivata la dichiarazione dell'onorevole Nino Oddo che ha espresso la sua solidarietà al senatore Dalì. Il parlamentare socialista ha parlato di un'iniziativa ritenuta per le modalità oltraggiosa delle minime regole democratiche di una società civile. Il mio essere socialista, ho continuato l'onorevole, mi porta ad essere un garantista tutto tondo e per tutte le stagioni. Ma in questo caso mi sento di dire che le modalità temporali mettono addirittura in secondo piano gli aspetti giuridici. Cambiamo argomento. Un arresto per maltrattamenti in famiglia è stato eseguito dalla polizia di Trapani. Litica con la madre, la ferra per il collo e la minaccia di morte. Il protagonista della vicenda è un ericino di 36 anni che è stato arrestato dalla polizia. L'uomo è accusato di tentato omicidio, maltrattamento in famiglia, minacce e violazione di domicilio. Ora è in carcere. Secondo quanto raccontato dalla donna agli agenti della squadra volante della questura di Trapani, l'indacato non era nuovo ad episodi del genere. La madre infatti ha denunciato che il figlio, in più di una circostanza, avrebbe perpetrato nei suoi confronti maltrattamenti, concentrando la propria attenzione anche su un'altra ragazza. L'ultimo gli è costato l'arresto, anche perché i riscontri raccolti dalla polizia sono stati condivisi dalla magistratura che ha disposto per l'uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Così, dopo le formalità di rito, l'indacato è stato accompagnato nella casa circondariale del capoluogo. E adesso spazio alla nostra pagina elettorale. Questa mattina il candidato a sindaco di Erice Luigi Nacci ha presentato i suoi primi due assessori designati. L'insegnante Maria Cristina Fontana e il portavoce dei socialisti Massimo Zaccarini, candidato per il Consiglio Comunale con la lista del PSI. Presente alla conferenza stampa anche Alessandro Perricone, tra i candidati al Consiglio Comunale di Erice con la lista per l'università a cui Nacci punta di affidare una consulenza per il verde pubblico. Nel corso della conferenza stampa, i due assessori designati hanno toccato diversi argomenti, a partire da università e grande città. La prima cosa su cui bisogna lavorare è sicuramente l'università. Migliorare, allora io parlo da mamma di una ragazza che studia fuori, studia fuori presso un'università che prima esisteva a Trapani, l'economia e commercio, mentre è stata tolta e quindi adesso mia figlia è costretta ad andare fuori a studiare. Io spero che si possa intervenire in questo senso e allargare l'università e la sua forza formativa. Noi puntiamo alla vittoria per poter cambiare Erice. La prima cosa che andrà fatta assolutamente è il passaggio necessario per poter unificare i territori di Trapani ed Erice che noi riteniamo essere il momento attraverso il quale favorire i cittadini per ottenere vantaggi illimitati. Questa scelta però ha un punto di partenza fondamentale. Erice e capoluogo, il borgo, devono essere il traino di tutta l'economia, non di Erice, non di Trapani ma di tutta la provincia. Quindi noi partiremo da questo per rendere un servizio nuovo. Noi chiediamo ai cittadini di cambiare la storia, noi chiediamo di scriverne una nuova che serva per cambiare tutto il territorio, non soltanto Erice e non soltanto Trapani. Noi sappiamo che la Fontana è una competente nella materia della pubblica istruzione, per quanto riguarda Massimo Zaccarini è un avvocato, mi può dare una mano a 360 gradi. Per quanto riguarda le altre dele o gli altri assessori, io mi riservo, perché ho le idee molto chiare, abbiamo una rosa molto vasta di nomi e desidero che mi circondino gente che sappia darmi sul serio qualità. E continuano le iniziative dei candidati alle prossime elezioni amministrative. Simone Vassallo, candidato al Consiglio Comunale di Erice con la lista Insieme con Giacomo Trancheda, ha tenuto un incontro assieme allo stesso Trancheda per illustrare la proposta politica. Mi sono candidato al Consiglio Comunale del Comune di Erice semplicemente perché intanto mi sento affettivamente appartenente al territorio di Erice avendo vissuto fin dalla nascita di Erice e quindi conosco la gente ricina e le esigenze che ha il territorio di Erice. Poi ho maturato la formazione, prima con gli studi e poi col lavoro per andare a fare un'esperienza del genere e a rendere un servizio ai cittadini visto che la politica la intendo come un servizio al cittadino e non andare a scaldare le poltrone o a intascare monumenti vari senza far nulla. Mi fa piacere che giovani ericini come Simone vogliano metterci la faccia vogliano metterci anche i loro sogni, le idee e i valori di cui sono portatori. Erice ha bisogno di tanto, Erice ha bisogno sicuramente di più e Simone ci darà una mano per un Erice migliore. Restando sempre ad Erice domani alle 18.30 nel Comitato elettorale di Napola dei candidati consiglieri comunali di Erice, Carmela D'Aidone e Vito Policani si terrà un incontro per parlare del cimitero di Contrada Specchia. Interverrà oltre i due candidati l'architetto Natale di Grazia. Per Carmela D'Aidone è importante dare degna e decorosa sepoltura a tutti i cittadini consentendo ai familiari di portare un fiore ai propri cari senza ostacoli di viabilità. L'appuntamento è il secondo di una serie di incontri promossi dai due candidati per discutere delle problematiche del territorio. Anche il patronato Acli di Trapani aderisce all'APE Day la giornata nazionale di informazione sull'anticipo pensionistico. L'iniziativa si svolgerà domani dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 nella sede di Corso Italia. I nostri operatori, spiega il presidente delle Acli, Giuseppe Peralta, saranno a disposizione per dare delle risposte ai cittadini sulle nuove misure di flessibilità pensionistica introdotte dall'ultima legge di bilancio. Presentato nuovo progetto al Comune di Valderice per la riqualificazione della banchina del porto di Bonagia. Continua la politica di miglioramento degli spazi pubblici nel Comune di Valderice. Dopo avere acquisito il progetto dell'area antestante il Teatro Comunale San Barnaba, nei giorni scorsi è stato presentato un piano importante che ha come progetto la riqualificazione della banchina del porto di Bonagia. Il molo non è banchinato da tanto tempo e vogliono procedere all'aggiornamento nel minor tempo possibile. Questo compito è stato affidato ad un professionista che con i fondi comunitari dovrà completare la pavimentazione e migliorare la qualità urbana dell'aria, metà ambita da parte di tanti turisti. Il sindaco del territorio valdericino, Mino Spezia, ha espresso che lo spazio oggetto dell'intervento sarà attrezzato con altri elementi di arredo urbano e vogliono rendere lo stesso scalo ancora più accogliente e soprattutto fruibile. Domani alle 9 al Polo Universitario di Trapani si terrà un convegno dal titolo Il nuovo codice doganale dell'Unione un anno dopo opportunità, semplificazioni e criticità. L'iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra il Polo Universitario e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vedrà la presenza del direttore regionale, il dottor Giuseppe Napoleoni, del dottore Ernesto Carbone, della Direzione Centrale di Roma e di altri importanti stakeholders. Il convegno sarà preseduto dal professor Andrea Parlato, benemerito dell'Università di Palermo. Invece domani, a partire dalle 11 all'Istituto Pertini di Trapani, si terrà il progetto Profumo di Anime, costruendo una vita oltre la limitazione della libertà. È un momento di riflessione e confronto del territorio con la Casa Circondariale di Trapani. A partecipare la dirigente scolastica Maria Laura Lombardo, il vescovo Pietro Maria Fragnelli, il direttore del carcere Renato Persico. Inoltre verrà esposto il progetto a cura del Rotary Club Trapani Birgimozia dal titolo Espiazione dell'Arte, che ha coinvolto 15 detenuti di San Giuliano, realizzando dipinti e sculture guidati dalle artiste trapanesi Rosadea Fiorenza e Giovanna Colomba. La stagione estiva è alle porte. Il comune di San Vitolo Capo pone dei limiti ben precisi. In questi giorni si stanno ponendo le prime basi nel comune di San Vitolo Capo per far sì che la stagione estiva sia piena di emozioni e di tante attività. L'amministrazione ha posto dei limiti ai frastuoni, ai venditori abusivi, per rendere piacevole la vacanza ai turisti. Infatti è stata posta un'ordinanza da parte del sindaco Matteo Rezzo, che aveva constatato lamentere da parte dei visitatori. Il primo punto riguarda i rumori che possono disturbare le persone. Il primo cittadino ha posto delle fasce orari, ovvero dalle 13 alle 16, dalle 20 alle 9.30 del giorno successivo. Non potranno essere impiegati strumenti e mezzi meccanici. Per quanto riguarda escavatori e ruspe, non potranno essere utilizzati dalle 13 alle 9.30 del giorno successivo. Il secondo punto viene riservato alla musica, che a volte raggiunge livelli acustici veramente assordanti. Per questo motivo il comune ha messo delle direttive sulle quali si potranno effettuare delle attività di divertimento, spettacolo e quant'altro, solo regolarmente autorizzati, per una fascia oraria che va dalle 17.30 alle 0.30 durante la settimana, dalle 17.30 alle 1.30 nei weekend. Però su questo piano l'amministrazione si trova in regime transitorio, in attesa del piano di classificazione acustica. Infine, ai titolari di autorizzazione del commercio ambulante dovranno tenere l'aria ben pulita, non dovranno esporre per terra la merce e fare uso di apparecchi acustici e sonori con grida sul prezzo delle merci. Sarà vietato il commercio ambulante nelle spiagge, nella zona traffico limitato, nella Baia Santa Margherita e sarà proibito fare pubblicità mediante distribuzione di pieghevoli e menu per strada. E adesso lo sport, il calcio, il giorno X è arrivato. Questa sera alle 20.30 il Trapani scenderà in campo a Brescia per la partita più importante di questa stagione. Vediamo il servizio di Fabio Tartamella sull'avversaria dei Granata. Tre precedenti in trasferta a Brescia con due pareggi ed una sconfitta per i Granata. In realtà almeno uno di quei due pareggi sembrò un successo per la maniera rocambolesca con cui maturò. Era il 29 dicembre del 2013 e il Trapani passò in vantaggio con un sinistro di Matteo Mancoso. I Lombardi ribaltarono il risultato con le marcature di Caracciolo su Rigore e Budan. Ci pensò Luca Nizzetto con un autografo prezioso a rimettere le cose a posto ma un autogol di Terlizzi regalò al Brescia il temporaneo 3-2. Poi, all'ultimo istante, il capitano Luca Pagliarulo diede il giusto premio del 3-3 a Granata. Nella stagione successiva era il 29 marzo del 2015 Nino Barillà mise il sigillo dell'1-1 dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio con una rete di Sodigna. Infine la gara d'andata del campionato passato datata 15 novembre 2015. Un infausto 3-0 per il Brescia con golo di Cupiz, Morosini e Geo. Ci manca una vittoria e sarebbe davvero il momento giusto per ottenerla. Per quanto riguarda gli undici che questa sera scenderanno in campo ovviamente abbiamo poche indicazioni ma la formazione potrebbe prevedere pigliacelli tra i pali. In difesa Casasola, Pagliarulo, Legittimo e Rizzato. A centrocampo, Nizzetto da centrale con Maracchi, Raffello, Barillà. In avanti potrebbe trovarsi Coronado insieme a Citro. Se c'è una zona su cui ancora Calori è indeciso è in avanti e quindi per quanto riguarda gli attaccanti. Questa sera potrebbero esserci delle sorprese. Ieri intanto in conferenza stampa proprio Calori ha parlato della sfida di questa sera. L'interpretazione è dettata anche da come entri in campo le situazioni che si creano. Per esempio l'errore di un passaggio può caricare la scuola avversaria. Sono piccolezze che non è tattica questa. Purtroppo è proprio il modo come si approccia la partita. Il Brescia giocherà molto probabilmente sui nostri riferimenti. Infatti non so se cambierà qualcosa. Quindi molto probabilmente qualcosa potrebbe succedere. Però quello che mi interessa è che l'atteggiamento proprio nostro sia dettato a leggere situazioni. partite dove non puoi stare a fare calcoli. Noi non siamo capaci perché l'abbiamo dimostrato più volte perché noi siamo una scuola che deve fare il proprio gioco al massimo. Chiaro che non lo possiamo spesso a volte non abbiamo fatto 90 minuti però quando l'abbiamo fatto penso che è un gioco che può essere produttivo e può creare situazioni buone, positive. Quello che speriamo e dopo di come le volverse la partita più che essere strategici bisogna essere dei maghi capire come possa andare. Ok, tutto chiaro. Numeri, moduli, precedenti, biglietti venduti, tifosi al seguito. Tutto ciò che è trascrivibile però in questo momento perde un po' del suo senso. Spazio invece all'ansia, alle emozioni, alle preghiere, ai silenzi, ai mal di pancia, alle chiacchiere al bar, alla ricerca di una parola di conforto. Il Trapani sa soffrire e così anche i suoi tifosi. Stamattina su Facebook argomento monotematico il Trapani in tutte le salse. Si postano vecchi video con dentro le gioie, frame della scorsa stagione storica, preghiere che scomodano Sant'Alberto, la Madonna, film motivazionali o semplicemente il racconto dell'essere tifosi. Tutto questo per ribadire la propria presenza, la disposizione a soffrire fino all'ultimo minuto che il Dio del calcio decreterà in quest'annata farabutta. E allora, rimbomba nella testa, una parola semplice, motore del nostro dolore ma anche dei nostri sorrisi che ieri ha preso forma dalle labbra di Mister Calori. Speranza è quella che passo dopo passo, centimetro dopo centimetro ci ha portati fino a qui, quando tutto sembrava perduto, quando lo sguardo si abbassava al triplice fischio. Allora adesso non c'è altra strada che la speranza e la fiducia in una squadra, in un allenatore e in una società che hanno avuto il coraggio di crederci e di restituire a se stessi e ai tifosi la dignità. E allora tutti uniti perché non è finita fino a quando non è finita. Andiamo a vedere le partite di quest'ultima giornata di campionato. Le prime due sono importantissime per quanto riguarda nel Trapani e parlo di Ascoli Ternana, Avellino Latina, ovviamente Brescia Trapani, Carpi Novara, Cesena Verona, Frosinone Vercelli, Perugia Salernitana, Pisa Benevento, Spal Bari, Vicenza Spezia, Virtus Entella Cittadella. E adesso invece chiudiamo con gli appuntamenti di questa sera. Non andrà in onda dei politi con l'appuntamento alle 21 e alle 23 invece con Seconda Repubblica ospiti di Nicola Baldarotta i candidati al Consiglio Comunale di Trapani ed Erice Stefano Nola, Nini Romano, Massimo Zaccarini e Angelo Catalano. E adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo qui in diretta con la nostra seconda edizione del Tg. Grazie a tutti.